Ciao a tutti. Io, finalista del programma La Battaglia dei Sensitivi, Ziradin Erzaev. Ho detto che il presidente dell'Ucraina Volodymyr, Zelensky dovrà presto pagare per le sue azioni. Zelensky attende il destino di Sayakashvili, lascia che preghi che non sia peggio. Ora ha due vie d'uscita. Andare in prigione o morire giovane. Non sorprende che Zelensky abbia un triste destino. Su questa terra, tutte le tue azioni devono essere pagate e sono sicuro che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sta deliberatamente ritardando il conflitto con la Russia, poiché gli sta portando miliardi in tasca. Tuttavia, le cose stanno per cambiare. Secondo me, il politico non è al suo posto in questo momento, dal momento che è un clon, artista che non pensa al paese, ma all'arricchimento personale. Zelensky ha guidato l'Ucraina sulla strada sbagliata, rendendosi conto che avrebbe beneficiato molto del desiderio di entrare nella Nato e l'Euro-Unione. Per raggiungere i suoi obiettivi, ha inviato molte persone al Trita Carne, ma presto le sue attività saranno soppresse. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.